Buonasera 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 è un'herbe toxica. Qui sono i miei occhi. Qui sono i miei occhi. Qui sono i miei occhi, i miei occhi. Qui sono i miei occhi. Quindi, in seguito del malo, anche se non traduiscono i problemi anatomiche, ma sono molto bene e poi, in fondo, che io trovo l'una delle più interessanti. ... In questo caso, la figura di Taros, con un pomontoire, che in quanto tempo ha cambiato, perché c'è una parte dell'effondimento del sol, e anche una parte della ville, che il resto della ville è sotto l'eau. E poi c'è un altro golfe di l'autre côté. La gorge ègyptiana, probabilmente con una protomè, una tette di lion, che servono di gago. In questo caso, questa famiglia originaria della Tripolitele, qui va a costruire un templo proprio romano. ... 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 le greco si appellano parascene c'était l'effetto che era utilizzato per gli attori per poterci per poterci per poterci on lo date di 40 apri Jésus Christ quindi siamo più a l'epoca di Caligula Fane Reine Fibere Caligula Claude e non più a l'epoca di Adrien la mosaica permet d'embellire e di guardare propria lo vedete si suge lentamente quindi l'esclave il giorno con una brosso un po' di acqua 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 e per questo che parla la radio se avete visitato Venise fa un magnifico che c'è Cornelis che aveva già fatto a Florent con gli appoggi perché c'è una divinità chevazza un animal marin allora on sape che c'è in avanti plusieurs che sono fricolenti queste immagini in le mosaico del sol ma malosamente in Sardaigne le immagini le più fricolenti volate per gli appoggi c'è dire in generale on laissait l'autre partie avec le motif geométiques s'affiché et récupérait les piliers recopérait seulement le tableau central emblemata emblema c'est pareil c'était c'était des termes gigantesques par rapport à celles qu'on vient de voir tout à l'heure ici il y avait une énorme salle il y avait qui était précédée par un portique monumental imaginez tout cela revêtu d'induit il y compris de la poudre de marbre qui donna l'impression de ce soit de véritable marbre ce couloir correspond à la partie où se trouvaient les préfourniers c'est-à-dire les fours qui servaient à chauffer les pièces chaudes qui étaient immédiatement à côté ça vous donne une idée de ce que pouvait être la taille de l'édifice c'était un edifice gigantesque donc comme ici on trouvait l'autre port il y avait un port là-bas et l'autre était ici un confoir des deux côtés quand les marins arrivaient bien sûr on se lave avec l'eau de mer les déplacements probablement se faisaient plutôt par le biais de porteurs que par le biais de chariots il y a cet espace central qui laisse penser qu'il y avait justement une fontaine avec un baldacan puis il y avait un portique sur le côté et tout était pavé et on est juste derrière les termes alors la fonction de cet édifice n'a pas été comprise et ici sur le côté gauche on a même avancé à un moment donné l'hypothèse c'est que ce soit une tannerie qui était une fondation phénicienne a vécu un âge de tort immédiatement immédiatement après la fondation mais au sixième siècle déjà avant l'arrivée des cartaginois on conçu on constat les acclogs ont constaté qu'il y avait une baisse de la quantité d'objets de la qualité des objets donc visiblement bien avant la conquête cartaginoise la ville devait connaître une période probablement de crise ils avaient entre temps fondé un village sous le mont Sirail on n'immolait pas des enfants on donnait pas des enfants c'est cet endroit là la taille que vous avez là qui était utilisée pour la crémation c'était des enfants mornés ou un très bazar et seulement un cas de réussite quand le vœu était exaucé on dressait les stèles que vous voyez là avec des sortes de barres comme un triglyphe et d'ailleurs il y en avait qui avait été utilisé même de ces stèles dans la construction de la tour au-dessus il y a l'architrave l'entablement du temple qui s'est miné peut-être avec un tampon et là à la main une sorte de tambourin qui est le tambourin qui accompagnait les rythmes c'est le philocrit récent Il più il tempo diventa, più le sardre appara. C'è cura, perché negli anni 1960, hanno tenduto a scrivere in Italia. L'Italia che è venuto a morire, è questo medicina che ha creato Emergenz. C'è la banca di Mariano Joy, l'avete scritto nel 1796. Tutte cose, sape la nostra faccia di pensare. E il 5 è normale. Si l'on ovre-toi, in sperando che l'adversario fisse 2, lui anche deve dire un chiffre. Se lui dire 4, mette 2, mette 3, ma deve dire... Il giù molto rapidamente. Il giù il giù il giù il giù, ci si l'affichiamo e vi annonce... ...la guerra è la terra, anche per aiuta. ...le l'arbre. La c'è... ...il demande... ...per esempio, in una pancarta... ...il demande delle cose per alimentare la terra, ...puttosto che dei progetti, non a la riflessione. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è un'hommaggio ai socialisti Filippo Turati, Sandro Pettini che per la suite è diventato Presidente della Repubblica e Federuccio Parri Sono delle personnalità del primo anno del XXIe Il nostro corso gratuito è stato scritto Un'altra canale di una canale del 70 Claudio L'Oroli Il giorno che arrivò in Vida fuori da Sardaigne per studiare all'università Il aveva già la testa di quello che insegna Il aveva già la grande testa Il aveva già la testa Il aveva già la testa di una canale Il aveva già la testa di una canale Il aveva già la testa di una canale Il aveva già la testa di un al con La vita ini è il aveva già la posta di una an turnione Si trovavano una vacanza. Le vettimento era un investimento che si mettono all'interno della famiglia. Non si mettono la famiglia. Non si mettono un grande